le interviste del bolive oggi abbiamo con noi il professor valerio mattozzo ciao valerio benvenuto ciao buongiorno allora professore di ecologia al dipartimento di bio di biologia e ecotossicologo sei qui con noi oggi per parlare di un tema globale che però ha dei risvolti ai noi adesso capiremo perché è un po anche locale purtroppo si parla di pulizia dei fiumi come sono messi nello specifico ce n'è uno che è un fiume iconico sia dal punto di vista religioso per gli induisti sia dal punto di vista anche dell'immaginario che è il gange ganga come si chiama in lingua originale in india è un fiume però valerio estremamente bellissimo ma inquinatissimo mezzo disastro è un mezzo disastro sì allora facciamo una premessa molto importante i fiumi hanno sempre avuto una grande importanza per lo sviluppo delle civiltà basti pensare che molte delle città più grandi più importanti al mondo sorgono proprio in prossimità di un fiume nel caso specifico del gange dovremmo aggiungere proprio il valore religioso perché è il fiume sacro appunto per gli indu spesso e volentieri però noi ignoriamo quello che è il valore la valenza ecologica di un fiume noi dobbiamo intendere un corso d'acqua come un vero e proprio serbatoio di biodiversità intendendo non solo le specie residenti ma anche tutte le specie sia vegetali che animali che poi si sviluppano ovviamente in quello che è il cosiddetto bacino idrografico di un fiume lo scheletro tanto per intenderci di un fiume per quanto riguarda il gange ci sono grossi problemi di contaminazione legata un pochino anche a quella che la sua natura nel senso che stiamo parlando di un fiume che si estende per circa 2500 chilometri prende origine nei ghiacciai dell'Himalaya scorre verso la parte settentrionale dell'India poi arriva verso il Bangladesh e sforza poi nel golfo del Bengala quindi attraversa veramente un territorio piuttosto esteso un altro anche molto popoloso perché l'India è molto popoloso esattamente cioè il problema è proprio questo proprio sulle sponde del fiume sorgono circa una cinquantina di città tra quelle più densamente popolate in India con tutto quello che ne può derivare poi in termini di rilascio di rifiuti sia ovviamente di natura urbana sia di natura industriale sia di natura agricola perché ovviamente ci sono anche molti campi che sorgono proprio in prossimità del fiume dove vengono utilizzate ovviamente sostanze particolari che casomai appunto poi elencheremo quindi il fiume in questi anni ha diciamo rappresentato una sorta di valvola di sfogo se così possiamo definirla per tutte quelle che sono le attività antropiche che si sviluppano proprio in prossimità del suo percorso con attività antropiche diciamo semplificando che quando pensate agli scarichi dentro al fiume è proprio quella cosa lì sia industriali che agricoli che di vario tipo tra l'altro prima di parlare poi è interessante e capiremo di che sostanze stiamo parlando secondo me è interessante fare un accenno proprio alla parte religiosa del fiume qui si contrastano anche un po' i dati scientifici che sono quelli di un fiume inquinatissimo tra i più inquinanti al mondo e la voglia e la necessità e anche la cosa giusta di persone che lo vedono è proprio una persona personificata anche giuridicamente tra l'altro di utilizzarlo come ci fanno le abluzioni ci si purifica anche proprio le persone poi morte vengono lasciate vengono rilasciate sul fiume perché è un fiume sacro è un caso strano che complica anche la cosa sì è un caso strano forse unico al mondo da questo punto di vista perché il fiume viene visto proprio come fonte di purificazione quindi non solo per gli organismi viventi ma anche per i defunti al punto tale che anche le carcasse degli animali vengono a volte rilasciate nel fiume così come ovviamente gli organismi, gli esseri umani diciamo che passano miglior vita vengono poi appunto abbandonati in un qualche modo proprio alle acque del fiume proprio per raggiungere quella ulteriore purificazione dell'anima diciamo secondo gli hindù d'altro canto questo è un problema grosso è un problema sanitario perché ovviamente non fa altro che peggiorare la qualità dell'acqua proprio in termini microbiologici quindi tocchiamo sicuramente un tasto piuttosto particolare da questo punto di vista però non bisogna assolutamente dimenticare appunto il pericolo che poi ne può derivare dall'uso di acqua contaminata dal punto di vista microbiologico sono protezioni che sussistono diversi insomma contemporaneamente quindi è complicato noi non siamo degli esperti in teologia non faremo un focus sull'induismo però insomma c'è questa parte che sottolineiamo rende più interessante lo studio e anche più complicata fosse la gestione parlavamo di sostanze prima cosa sversano cosa viene sversato direi di tutto di più di tutto di più perché si tratta di sostanze che ovviamente derivano soprattutto dalle acque reflui dei centri urbani abbiamo parlato di circa 50 grosse città che sorgono proprio in prossimità del fiume la maggior parte di queste non hanno impianti di depurazione secondo l'articolo che appunto abbiamo appena citato sul Gange recentemente pubblicato si parla di un volume d'acqua di circa 6 miliardi di litri di acqua nera quella che noi volgarmente chiamiamo appunto fogna acquereflue riversate ogni giorno nel Gange quindi un volume enorme di acqua non trattata che viene riversata tale quale appunto nel fiume ovviamente quest'acqua a quest'acqua si aggiunge quella che proviene ovviamente dai centri industriali e oltre che ovviamente dai campi agricoli dove vengono utilizzate svariate sostanze dagli erbicidi ai pesticidi ai fertilizzanti ecco i fertilizzanti sono un grosso problema per il Gange perché si tratta poi di quelle sostanze che una volta arrivati in acqua in un qualche modo facilitano l'esplosione di vita degli organismi vegetali quindi alghe piante e questo in apparenza potrebbe sembrare una buona cosa esattamente il problema qual è che poi gli stessi fattori che in un qualche modo facilitano l'esplosione della vita verranno a mancare quindi questa enorme mole di organismi vegetali che nascono alla fine muoiono e morendo appunto rappresentano il substrato idoneo per molte comunità batteriche che ovviamente agiscono su questa componente per demolirla ma per farlo consumano ossigeno. Ci non viene anche dato un ciclo di vita naturale, è una cosa forzata. È una cosa forzata che si conclude poi purtroppo con processi e fenomeni di ipossia e nei casi più estremi di anossia quindi una riduzione drastica del tenore della concentrazione di ossigeno nelle acque. A queste sostanze dobbiamo aggiungere anche fertilizzanti, scusate, pesticidi, insetticidi, erbicidi. In India si fa purtroppo largo uso come in altre parti del mondo comunque di erbicidi che vengono utilizzati proprio per garantire un continuo utilizzo proprio dei campi agricoli quindi si riduce al minimo quello che è l'intervento umano nella lavorazione dei terreni e si applicano sempre di più queste sostanze proprio per rendere sempre più utilizzabili i terreni. Queste sostanze alla fine proprio grazie all'illavamento del suolo vanno a finire. Da qualche parte devono andare a finire purtroppo quella è la direzione, una delle direzioni privilegiate diciamo purtroppo perché insomma avete capito la situazione non è proprio rosia. Tra l'altro un'altra cosa interessante è ovviamente la gestione, tentativi di gestione ce ne sono principalmente dal punto di vista economico perché recentemente negli scorsi anni e con una prospettiva anche del 2019 il governo indiano sta investendo molti molti soldi per tentare di risolvere la situazione che evidentemente sotto gli occhi di tutti è un problema globale. Però abbiamo capito questa cosa, i soldi non risolvono automaticamente il problema. Lo possiamo dire senza timore di sbagliarci, non sono l'unica via. Assolutamente sì, le cifre sono veramente enormi, parliamo tanto per rimanere in tema di un fiume di denaro veramente rilevante, da 14 a 27 miliardi di dollari che sono stati investiti negli ultimi anni proprio per cercare di migliorare lo stato di salute del fiume. A quanto pare i risultati sono stati praticamente nulli, in parte dovuti potrei dire all'incapacità ovviamente di sviluppare tecnologie tra le più moderne che sicuramente possono alleviare quello che è lo stato di contaminazione del fiume. Purtroppo si aggiunge, e questo non credo sia un problema solamente dell'India, un problema legato anche diciamo alla corruzione. L'articolo in questione fa riferimento proprio a fenomeni di corruzione proprio all'interno delle agenzie che sarebbero deputate al controllo della qualità ambientale. Purtroppo dove ci sono tanti soldi può capitare che ci sia qualche problemino di smistamento di denaro. Ad onore del vero qualche tentativo negli anni scorsi era stato fatto per migliorare lo stato di salute del gange. Sono però tentativi dal mio punto di vista non strettamente finalizzati all'abbattimento o comunque alla riduzione dei livelli di contaminazione. Erano più legati a migliorare la situazione soprattutto del bacino ideografico nei momenti di piena del gange, quindi durante soprattutto la stagione dei monsoni. Questo comunque non riguarda proprio espressamente il problema dell'inquinamento. Secondo quanto riportato nell'articolo sostanzialmente si cercherà poi nei prossimi anni effettivamente di mettere mano al problema inquinamento con queste enormi somme di denaro. Il problema dal mio punto di vista è comunque questo, cioè si prefigge di raggiungere uno stato buono, comunque sufficiente di qualità dell'acqua entro il 2019. Il 2019 domani è domani. A meno che non ci facciamo un grande regalo di Natale. Assolutamente, quindi non so quanto questo sarà fattibile in così breve tempo. fra l'altro con delle tecniche che dal mio punto di vista sono anche questionabili perché si fa riferimento alla possibilità di costruire dighe o sbarramenti per aumentare la velocità di corrente del fiume. Quindi questo vorrà dire sostanzialmente spostare il problema e localizzarlo. Quindi tutta la fascia costiera in prossimità del Golfo del Bencala si dovrà ovviamente prendere carico di tutto il problema dei beni comuni e questo si aprono grandi scenari che magari approfondiremo, anzi sicuramente lo facciamo. Un'altra cosa che invece ti volevo chiedere è una sorta di non parallelo ma visto che parliamo del Gange e che abbiamo più volte citato il problema globale e anche altri esempi, purtroppo ce ne sono altri e le dinamiche. Questo forse è interessante come caso di studio, le dinamiche sono spesso uguali, abbiamo detto della gestione dei beni comuni, dei grandi investimenti pubblici e non, ci sono anche altre situazioni che vanno risolte da questo punto di vista. Anche locali, quindi senza andare tanto distante abbiamo anche delle situazioni alle nostre latitudini. Basta pensare a quello che è successo negli ultimi anni proprio a causa della contaminazione dei FAS, sostanze per flore alchiliche, che sono presenti ormai soprattutto nei corsi d'acqua dolce ma purtroppo anche nelle acque di falda dove normalmente appunto noi attingiamo l'acqua potabile. Notizia proprio di qualche giorno fa, una notizia abbastanza preoccupante, il gruppo del professor Foresta ha chiaramente messo in evidenza la relazione tra presenza nel circolo sanguigno di queste sostanze e diciamo scompense a livello del sistema endocrino degli organismi e nel caso specifico parliamo di esseri umani. Quindi parliamo di sostanze che una volta inserite nel circolo sanguigno possono interferire con il normale funzionamento di un sistema endocrino. Cosa vuol dire? Vuol dire che ne derivano poi scompensi a livello della crescita psicofisica, dello sviluppo psicofisico di una persona. Ci sono per fortuna anche casi diciamo positivi e abbiamo anche degli esempi buoni come quelli che fanno riferimento all'uso della cosiddetta tecnica del biorissanamento, cioè sostanzialmente si cerca di migliorare lo stato di salute dell'acqua utilizzando ad esempio ceppi batterici o complessi enzimatici che in un qualche modo possono abbattere poi il carico organico presente nei corsi d'acqua. È un'azione più mirata, è un'azione però importante perché spesso e volentieri proprio questo tipo di inquinamento, queste tipologie di inquinamento è quella che è anche più facilmente visibile, quindi la presenza di mucillagini, cattivo odore dell'acqua, quindi in un qualche modo agire su quegli aspetti è molto importante. È già stato fatto nel centro Italia, soprattutto nella zona di Teramo se non ricordo male, dove queste tecnologie sono state applicate con ottimi risultati, soprattutto appunto diciamo in prossimità della foce del fiume e questo per rilacciarci al problema del gange in un qualche modo va a preservare anche quello che è lo stato di salute delle acque costiere perché comunque i fiumi alla fine andranno a finire proprio. Grazie mille Valerio Vantozzo per questa digressione molto interessante e anche per questa notizia bella finale perché siamo stati un po' cupi, però magari bisogna essere ottimisti. Ci sono le tecnologie per fare certe cose, ci auguriamo che questo piccolo dibattito possa smuovere qualcosa e la prossima volta che ci sentiamo avremo ottime notizie. Speriamo. Grazie mille alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi.